Nelle puntate precedenti Lo scienziato, Vardoz, era lì Inizialmente non capivo cosa stesse facendo Ci stava spiando da dietro un albero E perché l'ha ucciso? Non l'ho ucciso Come devo dirvelo che non sono stata io? Lei crede? Guardi qui A che gioco stai giocando, Chiara? Non ti riconosco più È la testa per aria Dice una cosa e ne pè sempre un'altra Dove vai? Il caffè? Chiara! Di fronte a te, secondo scaffale dal basso Ventitresimo libro da sinistra a destra Aspetta un minuto e poi aprilo a pagina 47 Troverai una busta con all'interno delle istruzioni Se la ignori, come hai fatto prima La tua amica muore Se non esegui le istruzioni La tua amica muore Se ne parli con qualcuno Ho capito Se provi a fare del male a manico a qualcun altro Io... Dipende solo da te E va bene, lo farò Non ne dubitavo Allora Conta Da adesso Questa ti terrà occupata per un po' Oggi incontrerai due persone Ma solo di una dovrai fidarti L'altra tenterà di ucciderti La riconoscerai perché indossa un abito oscuro Ti troveranno loro Chiara! Ma che ci fai qui? Lo sai che sei andata via mezz'ora prima dell'orario di chiusura, vero? Sì, mi sentivo male Colpa di quella lettera? Quale? Quella che stavi leggendo poco fa È sua? No, non c'entra niente E allora cos'hai? Io... Che c'è? Parla Troverai una busta con all'interno delle istruzioni Se la ignori Come hai fatto prima La tua amica muore Se non esegui le istruzioni La tua amica muore Se ne parli con qualcuno Ho capito Niente, davvero Ora sto meglio Non mi sembra vederti Marika, sta tranquilla, ok? Sto bene All'ora 17 in punto Dovrai trovarti al parco Sì Il parco in cui Davide ti dichiarò il suo amore Solo allora saprai la verità Stai attenta Chiara Il tuo caro amico È nebbile Sorpresa? Sembra di sì È normale Ti starei chiedendo perché sono uguale a te Dovresti saperlo Tu puoi gestire la chiave E adesso posso farlo anch'io Quale chiave? Lo sai benissimo Quella che tuo nonno ti ha donato diversi anni fa Dove si trova? Non lo so Non ce l'ho più Non è vero Tuo nonno ti avrà sicuramente detto di non separartene mai La voglio Dammela Non ce l'ho ti ho detto Forse non ci siamo capiti Mi adivide Cerca sotto il portaombrelli l'ingresso Troverai qualcosa che potrà servirti in caso di emergenza Carino quel Davide Ho saputo che vi siete lasciati Mi dispiace Mi sa tanto che è stata colpa mia D'altronde con questo tuo bel visino Non mi è stato per niente difficile avvicinarmi ad altri ragazzi La chiave Dove si trova? Tanto ti prendo Ah Dove si trova la chiave? Lo sapevi La porti sempre con te Povera ingenua Con chi credevi di avere a che fare? Zoser, ti libero dall'oblio e dall'eterna prigionia Ik se Omen oren Bov Minut oren koren Shak Tama Zoser Hin Honk Hiv Ah 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 계속 쳐야 돼. No, no. 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 No. No, no. azzurro. Anzi, sono già arrivati. Non esiste il caso. Non esistono le coincidenze. Solo un destino. Tutti gli oggetti, gli eventi e le persone sono connesse tra loro e tutto muove per un unico fine. E noi, controllori del tempo, osserviamo la storia e operiamo finché queste connessioni vengano mantenute. Perché possono esistere vari modi per creare il futuro, ma questo è uno ed è immutabile. Certe cose quindi possono anche succedere, mentre altre, assolutamente, non devono accadere. Che sai? Cosa volete da me? Cerca sotto il portaombrelli l'ingresso. Troverai qualcosa che potrà servirti in caso di emergenza. Oggi incontrerai due persone, ma solo di una dovrai fidarti. L'altra tenterà di ucciderti, ti troveranno loro. Cos'è? Ma sono io. Stavi facendo questo al parco? Mi stavi ritraendo? Chi sei tu? Non fidarti di nessuno. Nemmeno di te stessa. Sono qui per aiutarti. Non fidarti. Nel'altro. Non fidarti. Mi stava. Nel'altro. Non fidarti. Grazie a tutti Grazie a tutti